I carabinieri della Terenza di Fevara scovano un vero e proprio supermarket della droga e arrestano un uomo. L'attività di vendita di hashish e cocaina avveniva nella propria abitazione e riceveva i clienti all'interno di una stanza. E come ogni attività commerciale, ben organizzata, aveva anche a disposizione il proprio sistema di videosorveglianza, dove teneva sotto controllo dalla sua postazione l'arrivo dei clienti e difendersi dall'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri di Fevara, gli ordini del tenente Niccolò Morandi, coadiuvati dai militari della stazione di Raffadali e dal nucleo Cinofili di Palermo, hanno messo la parola fine a questa attività di spaccio, arrestando il responsabile. Si tratta di Antonio Crappa, di 45 anni, che dovrà rispondere adesso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Facendo eruzione, i militari hanno trovato Crappa in possesso di due involucri di cocaina, del peso complessivo di 90 grammi. Trovato anche il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Da una più accurata perquisizione sono stati inoltre rinvenuti altri 75 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, unitamente a bilancini e taglierini. Il materiale è la sostanza stupefacente, che veniva venduta a poco meno di 100 euro al grammo per la cocaina e a circa 20 euro al grammo per l'hashish, è stata sequestrata. Grazie a questo intervento, i militari sequestrano un grosso quantitativo di droga che, se emesso nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Crappa è stato tradotto in carcere a disposizione del magistrato Silvia Baldi per le formalità di rito. Grazie a tutti.